mamma ci fare auguri pronto Nico tanti auguri tanti auguri è certo è certo è solo una ripartenza senti però io l'ho chiamato pure per un altro motivo vorrei capire ma che casino stanno a farli a Casal Bruciato Nico ho già 5 telefonate che mi arrivano tre femmine e due uomini che cercano casa e io gli ho detto scusate io mi chiedo un'agenzia immobiliare dice no a Casal Bruciato lì al circolo del PD c'hanno il numero di telefono tuo per le interviste va bene ho capito ma no senti ma io non lo so ma chi ha messo in mano a questo circolo? porca miseria ma dimmi tu no fagli subito una telefonata poi mo stamattina ci ho da fare ma domani vado giù oggi pomeriggio vado giù e vado a chiarire sta storia e mi telefonano tutti io sono 8 anni sono 10 anni non so zingaro non so niente ecco Nico vedete ieri no no perché sta storia è un po' andavanti ma io non lo so mannaggia la miseria